Sta per partire la 74esima edizione della Festa dell'Uva. L'edizione di quest'anno presenta diverse novità. La prima di queste è la presentazione pubblica, venerdì 1 settembre, in piazza 20 settembre, San Gottardo, alle 20 e in piazza Martiri alle 20 e 30 del programma della festa, in collaborazione con Atom e Locus per un DJ party. Il programma delle manifestazioni che si snoderanno da sabato 2 a domenica 10. Scarica gratuitamente l'app News24 e leggi gratis i nostri giornali e se vuoi vedere tutto il video abbonati alla nuova televisione online e live 24 ore su 24.